Ciao, sono Yuri di Alicia for Children e oggi sono qui per parlarvi di anemia falciforme, una malattia assolutamente sconosciuta di cui si parla troppo poco ma che invece ha un impatto incredibile soprattutto su continenti come l'Africa. Oggi è infatti la giornata mondiale contro l'anemia falciforme, una giornata pensata per porre l'attenzione su questa tematica e su questa malattia. Ma cos'è l'anemia falciforme? È una malattia genetica che colpisce le cellule del sangue, i globuli rossi, incaricate di portare l'ossigeno alle varie cellule e fa sì che i globuli assumano questa forma a falce che poi dà il nome alla malattia. Questo però comporta una grave difficoltà per un singolo globulo rosso di portare l'ossigeno alle varie cellule e provoca tutta una serie di sintomi che vanno da dolori ossei a disturbi e ritardi della crescita a fortissimi casi di anemia e di infezioni, rendendo questa malattia se non trattata correttamente assolutamente letale. Il fatto che sia una malattia di fatto invisibile soprattutto nelle prime fasi della malattia stessa rende più difficile affrontarla e rende più difficile porre l'attenzione su di essa. Ad oggi nel mondo si contano circa 120 milioni di casi di anemia falciforme, di questi due terzi sono in Africa. Ogni giorno nascono in Africa circa mille bambini affetti da anemia falciforme. Di questi la metà, quindi 500 bambini ogni giorno, non arriverà a compiere cinque anni a causa delle gravi infezioni o dei gravi casi di anemia a cui andranno incontro durante la loro infanzia. La domanda che ci si pone è una malattia curabile, è una malattia con cui si può convivere? Di fatto non è curabile. A parte rarissimi casi in cui un trapianto di midollo osseo può effettivamente portare alla soluzione della malattia, in realtà con l'anemia falciforme tocca convivere. È una malattia che ci sporta lungo tutto il corso della nostra vita, ma che non pregiudica. La crescita è una vita di fatto normale, spesso con un'aspettativa di vita media non così tanto più bassa rispetto ad una persona sana. L'importante è riuscire a ricevere tutti i trattamenti necessari, a tenere sotto controllo la malattia e a vivere in salute. Il che non è affatto facile, soprattutto per persone come i milioni di abitanti delle baraccopoli di Nairobi in cui operiamo dal 2006, che vivono in un contesto di estrema povertà e che quindi non solo non hanno accesso alle medicine di base che servono per mantenere sotto controllo la malattia, ma che non ricevono e che non hanno accesso ad una dieta equilibrata, ad un supporto alimentare e sanitario corretto, banalmente ad un'idratazione corretta e costante, che sono fondamentali per tenere sotto controllo l'anemia falciforme. Tra i nostri bambini nelle baraccopoli di Nairobi molti sono affetti da anemia falciforme. Fortunatamente noi siamo in grado di capire per tempo il fatto che sono affetti da questa malattia e interveniamo affinché loro possano avere un'infanzia e un futuro del tutto normali, esattamente come gli altri bambini. Come? Innanzitutto garantendo loro tutta una serie di controlli medici periodici per tenere sotto controllo la malattia. Per sincerarci che tutti i sintomi che notoriamente l'anemia falciforme comporta non intervengano e nel caso intervenire subito noi stessi per fermarli e per tenerli sotto controllo. Ma non soltanto, diamo anche loro un supporto alimentare ulteriore rispetto a quello che già diamo a tutti i nostri bambini proprio per garantire loro una dieta rafforzata che tenga sotto controllo la debolezza, i disturbi della crescita, i casi di anemia che l'anemia falciforme comporta. È abbastanza evidente quindi come l'anemia falciforme sia sì una malattia di fatto incurabile e che può portare alla morte, ma che sia anche una malattia strettamente legata alla condizione socio-economica di chi la contrae. Se una persona non ha i mezzi per potersi garantire in primis una corretta alimentazione e in secondo luogo tutte le medicine di cui ha bisogno, ecco che una malattia con cui si può convivere e che comunque ti può permettere di avere una vita normale diventa letale. E si passa da una questione meramente medica ad una questione socio-economica. Noi interveniamo da entrambi questi lati, sia garantendo l'accesso alla salute a tutti i nostri bambini che hanno l'anemia falciforme e non solo, cosa non scontata in un paese come il Kenya dove la sanità è privata, ma garantiamo anche loro un sostegno alimentare ulteriore per far sì che possano crescere in salute nonostante la malattia. Tutto questo è reso possibile ovviamente dall'aiuto dei nostri donatori che non fanno mai mancare il loro sopporto. Anche tu puoi difendere i diritti alla salute e alla vita di tantissimi bambini affetti da anemia falciforme.